Musica No, non è Non è come sembra Oh, che cazzo fai? Stavo facendo l'intro Ma adesso ti do un pugno No Ah, Isma, sei pazzo Ok, dai, tieni Ah, questo è il tuo telefono Vabbè, scusate ragazzi, volevo Rendere Vabbè, iniziamo il video Ancora Ciao a tutti ragazzi e ragazze Io sono Ticomano il Diablo E quello che avete visto C'era un ragno sulla mia gamba Che me l'ho ucciso Vabbè, comunque Quello che avete visto Vabbè, volevo fare l'intro Diciamo No Vabbè, comunque Oggi Da come avete letto Dal titolo So già che spaccherò qualcosa Giocherò a Geometry Dash Per chi non sapete che cos'è È un videogioco dove praticamente Cioè, è un impossible game Cioè, che tu devi Con un quadrato Devi andare avanti Cioè, in realtà va avanti da solo E praticamente Devi assaltare degli ostacoli E devi cercare di non cadere Il problema è che praticamente Sono ostacoli difficili Che praticamente Quasi nessuno riesce A finirli tutti Bella la spiegazione che ho fatto Sì Ok Vabbè, dai So già che starò per pentirmele Però Dai, non perdiamo altro tempo E iniziamo purtroppo Ok Tolgo la telecamera Perché non serve Eccoci qua, ragazzi Ma Il volume Alzo Non tanto Ok Allora, praticamente Questo qua E poi Voi direte Ma come farete A non arrabbiarvi È un gioco così Colorato Tranquillo Tutto colorato Anche con le navi C'è Vabbè Ma cos'era? Cioè Ma Che era un occhio volante Palla Ma che cazzo Ma che è? Cos'era quella Vabbè Andiamo avanti Allora, il primo livello Comingson No Che cazzo è successo? Fermo un attimo Ma però voglio giocare Lo so Sper Alza Alzati Alzati Ma che cazzo Scusate un attimo No Ok ragazzi Iniziamo dal primo livello Che dovrebbe essere il tutorial Stereo Madness Madness Adesso praticamente Avete visto Il 56% Che In realtà Non sono stato io a farlo È stato mio amico Vabbè Iniziamo E già Partiamo male Non ci credo Che sono salvato Voi direte È facile Per me Un po' di meno Quando perdo Mi prendo gli infarti Io ho problemi comunque Puoi fare anche così Ma che cazzo Questo video Cerco di tagliarlo Perché sarà infinito Non ci credo Io 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 rischio Voi non avete Voi non avete idea Di cosa Di cosa io sto giocando Sto giocando Ad un Impossible game Ma proprio vero Sembra una scorreggia Comunque No Ah Le ossa Ricominciamo Dai 14% Ma che No raga Scusate Sono io Che faccio schifo Sto gioco Isma Basta Mi distrai Non ci credo Non ci credo Dopo posso farti superare Quella parte Ok No Vabbè vai Vai Non ci credo Scusate 10% Non sono 12% Sono 18% 12% Tredici, quattordici, Provence. Nooo! Iz, ma però! Fai tu! Sei tu. Sei stato tu. ma quanto sono arrivato hai visto eh ma tu l'hai fatto cosa cosa ho fatto non l'hai fatta apposta ma io stai a te ok qua non ci sono arrivato da solo ecco perché non ci sono arrivato da solo mi distrai non avete idea di cosa sto facendo raga ma che ma io ho problemi Homer Simpson ho più paura di prima vai giù faccio io ma non vo gioco sto vai ok faccio io vai era meglio che giocavo sto gioco ma che cazzo mi fai aprire non voglio 22% comunque no 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 raga da solo praticamente no oh oh non devi far così devi cliccare e basta devi cliccare se clicchi va sopra se lasci va sotto comunque è la prima volta che sei arrivato là è vero è meglio cambiare livello dopo questo cambiamo no dai cambiamo hai fatto la cazzata ma lo fa io aspetta ah back on track wow la faccia sorridente sarà facile con questo con questo che salto aspetta cheat sarà facile sto livello mi sembra bellissimo bellissimo è facilissimo sto livello non ti credo sono bravo sono una merda mi sa mi sa che non ci riesco ma che cazzo no ma ma manco le cose facili riesco a fare aspetta aspetta ma che bello dai ma che dai telefoni di telefoni del 2022 bello sta schifo 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 guarda aspetta puoi fare qualche schifo no come fa ma come fa non morire con una barricata play now ma perché si ma perché si diamo metri dash secondo me dobbiamo andare ecco ecco non ci ma che cazzo fai ma perché si aprono le schermate io ho un cito qua questo eccolo che significa che c'è non cominci da capo madonna che genio no raga non ci crede non ci crederete raga praticamente gli hanno attivato una moda un'impostazione dove non gli permette di cominciare a capo ma la musica è cambiata si salta non salta ma è difficile anche con l'amore è difficile bellissimo come cazzo, come cazzo devi fare? vai! vai! oh! no! ah ok quando finisce il story battle? che ne sono? ci sono anche i liberi questa parte la conosco ma è lungo lunghissimo ma è lunghissimo il livello dai 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 salta video non me lo so stampare ce l'ho, ah Stambul Guys ah potevo giocare a Stambul Guys forse era meglio ma che cazzo ma come? niente ho che isma? ogni angolo che è? come cazzo? c'è il livello 80 isma 81 tentativi qui come cazzo il primo patto eeeh 95 tentativi no no ce lo vediamo no no prima era 100 per... wow nooo hai fatto ma io non l'ho mai fatto urch devi sempre saltare lo so no devi ma perchè non mi salta? ma perchè non salta? ma perchè non salta? oh oh no vai no vai aspetta dai no ci credo vai ma che ma perchè 13 tentativi? oh non ci credo isma non sono mai arrivato a sta parte ecco perchè non ci sono mai arrivato ciao oddio un per cento addirittura ma no aspetta dai ce la devo fare beh sto diventando bravo forse cheat c'è la maledizione non no vi giuro che non lo sto facendo apposta raga e per e per farli e per e per i e niente eh 23 tentativi ma ma sempre nello stesso fattuto punto che ma dai però c'è comunque anche nelle cose semplici oh ma dai oh ma perchè no raga non giocate mai a sto gioco ve ne pentirete no no raga era una delle parti più facili ma non ma perchè non sa ma perchè non arrivo avanti ma perchè salto Cioè, raga, non ci credo Vabbè, chiunque abbia... Aspetta, come si fa? Vabbè, un avviso, chiunque voglia giocare a questo gioco, non fatelo Fidatevi, è per il vostro bene Dopo spaccherete qualcosa nella vostra camera E dopo vostra madre vi ucciderà Come adesso? Ma che... Voglio solo bloccare un attimo Perché mi sono messo in una posizione da mongoloide Voglio... Oh No, raga Non ci credo, ce l'ho fatta E dopo sono morto di nuovo Cioè, un gioco più bello di così, wow Niente, devo saltare più vicino Niente, devo saltare nello stesso momento No, cazzo No 40, 30 tv ma perché non salto dai però non ci credo mi sembrava un po strano bello voglio finire sto livello niente devo saltare però ecco eh sì però non sempre devo saltare sono alcune volte che non posso saltare niente è una fida io ero il milanese e io ero abbrozzese io ero giuliette e lo sono ancora io ero il milanese ah è un film madonna più pubblicità di queste cioè che dopo che ti credi cioè dopo questa pubblicità parte quella di dante alighieri non lo so guarda scusatevi per le battute ecco è lui il coglione qua eccomi eccomi qua ma devo saltare non ci credero però sì però anche qua devo saltare no eccomi guarda guardalo aspetta eccomi sono tornato voglio fare un attimo una cosa voglio giocare con la webcam sì così almeno mi vedete niente 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 non cambia un cazzo anzi peggio peggio non posso parlare non sono italiano è uno solo slovacco eccomi però perché non mi non mi fa saltare ah una pubblicità sul sul basket niente devo giocare ti mozzo con gli occhi chiusi guardate stavo per fare una cosa 70 tentativi 70 tentativi raga va bene vai bravo quadratino già non riesco a fare il livello figurati ad occhi chiusi c'è un miracolo che ho fatto qua fino ma perché è salto niente 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 manco devo saltare con la pratica si fa tutto vedete non come faccio io ovviamente vai sì però guardate raga guardate come lo finisco guardate guardate non ci credo raga non ci credo manco io non ci credo non ci credo e se vabbè vabbè è la parte più difficile di tutti dai non voglio gli annunci scusa ma cosa capisci della parola non voglio gli annunci bravo eh grazie no non voglio oh l'ultima ci provo c'è 16% c'è già è tanto raga ci provo l'ultima ci provo l'ultima volta e dopo mi finisco qua al prossimo video farò anche il quarto round come un fatto no raga non è impossibile non ci credo se vabbè però ma manco ma devi essere l'angelo custode per completare sto livello cioè devi essere l'angelo custode per completare sto livello oppure no è un po' è un po' esagerato solo io che io sono io che ho mezzo cervello c'è già un miracolo che che sono arrivato a quel punto figuriamoci io manco il tutorial riesco a fare figuriamoci qu'è non ci credo se però guarda era meglio starci zitti raga se tutti stai raga se voi vi state zitti a questo livello lo finite perché se dopo io parlo mi porto una figa guardate aspettate non mi sto zitto almeno ho provato ho fatto più più di prima no iniziano ma devo basta non farlo più ma perché che 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 vede è però aspetto fuori ma 100 tentativi guardate ma non lo so raga ma riuscirò a finire sto livello io non vo niente oh 9% non salto non so manco perché no raga 99 tentativi ti immagini arriva a 100 può essere guarda vedi 100 tentativi wow madonna c'è raga se io quando parlo mi porto una sfiga guarda 101 tipo la carica la carica di staminchia tipo 101 tipo il film tipo la carica la carica di staminchia quante volte l'ho detto la carica di staminchia di 104 103 ma arriva 104 e 105 come la radio lo zoni 105 radio 105 da radio 105 zoni 105 alla 104 un attimo vedete 104 incredibile 100 e mo 105 106 addirittura ma porca puttana niente 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 ma manco le parti fa ma manco le parti facili riesco a fare guarda ma per finire il suo livello servirebbe una live di due ore ma minimo ma anche di più forse per finire tutte e tre i livelli una live di tre ore no 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 bello così ok la smetto che è successo aaa ecco 111 tentativi 111 ma porca puttana sti giochi fanno venire il nervoso raga ma perché non salto ma che problemi ho ragazzo livello lo devo finire per forza non l'ho mai finito uno da solo ma io proprio io sta persona ma perché ma faccio cazzate io vado di matto no oh porca puttana 120 tentativi conoscete conoscete uno che è arrivato al 120 tentativi anche di più beh 121 niente niente raga lo devo finire per forza anche se non so se ci riuscirò ma 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 io salto Non è la storia di un eroe Ma la storia di tanti fallimenti Ah pubblicità di prima Io ero il milanese Ma mi escono Scopri podcast original Scopri tua madre che è uscita dal seggiolino Scopri che le pubblicità Non servono a una minchia Quando stai giocando ad un gioco Capiscilo Per il nome di Gesù Non ci credo Raga non sono mai Niente Va bene ragazzi Non sono mai arrivato a quella parte Mai arrivato proprio Mai Ma porca puttana Raga Cioè non ci credo manco io Raga Nemmeno io ci credo Ritorniamo alla schermata Di prima Che è meglio Bene ragazzi Mi rivedete ancora qui Mi rivedete ancora qui Ma porca Ok Riuscirò prima o poi a finire un livello Magari in una live Eh Forse Non lo so Vabbè Comunque spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate like E scrivete un commento carino su di noi E Niente Ci vediamo ad un prossimo video E Ciao ragazzi Ciao